Termineranno a fine mese i lavori del cantiere del primo intervento di sistemazione del tetto del delfico di Piazza Dante a Teramo. In questa prima fase è stata sistemata la porzione sovrastante alla facciata del Palazzo Storico e la provincia ha già approvato il progetto per il completamento dell'intervento sulla restante parte del tetto, progetto che ora dovrà seguire l'Itere per arrivare a bandire la gara d'appalto. Entro il 20 settembre termineranno i lavori al Comi e entro il 25 settembre termineranno il primo lotto dei lavori importanti suatti sul liceo delfico di Teramo. Inoltre il venerdì scorso è scaduto il termine per un bando sulla progettazione, abbiamo presentato due bandi, due richieste di finanziamento per la progettazione che non è un bando, quindi sono dei finanziamenti che molto probabilmente verranno accordati a questa amministrazione per la progettazione del secondo lotto del liceo delfico e per la sistemazione del milli, del magistrale. Ma sono diversi i cantieri in estero che prenderanno il via a stretto giro che riguardano le scuole superiori di competenza della provincia di Teramo, grazie ai numerosi fondi che l'ente è riuscito ad ottenere. Abbiamo investito in questi ultimi mesi e stiamo investendo, investiremo nei prossimi mesi, qualcosa come 50 milioni di euro, come abbiamo già comunicato in passato. Adesso, è notizia di qualche giorno fa, abbiamo ottenuto due finanziamenti importanti, uno per poco più di 9 milioni per il liceo scientifico di Atri e l'altro invece per 6 milioni e 250 mila euro per il di Poppa a Teramo. Sono due finanziamenti importanti che proseguono il discorso iniziato già negli scorsi mesi, negli scorsi anni sulla riqualificazione degli edifici scolastici, la messa in sicurezza, l'efficientamento e la sistemazione delle nostre scuole.